Come è noto, il dipinto alla Stanga è stato realizzato da Giovanni Segantini durante l'inverno tra 1885 e 1886 a Caglio e questa data e questa scelta di realizzare sul posto questo dipinto di paesaggio ha una serie di connotazioni, una serie di conseguenze che sono estremamente importanti per capire la genesi ideativa e poi esecutiva del dipinto. Infatti anche se Giovanni Segantini aveva già trascorso dei periodi in alta montagna, la differenza questa volta consiste nel fatto che lui ha scelto non solo di dipingere ma proprio anche di vivere lì. È stata una scelta molto radicale sfidando anche un inverno montano particolarmente rigido, tanto che lui ha lasciato poi la famiglia in un'altra zona. Il dipinto è stato realizzato come forse già si sa, spostando ogni volta all'esterno questa grande tela con un telaio pesantissimo e l'aiuto di quattro persone. Quello che cercava Giovanni Segantini era infatti non semplicemente di realizzare una veduta di un paesaggio come poteva essere nella tradizione della pittura di paesaggio ottocentesca, ma quanto di realizzare un dipinto in cui si sentisse la completa immersione dell'artista nella natura. Cioè ha dipinto questo quadro nella completa immersione di questo paesaggio montano che trasmette un sentimento all'artista e anche allo spettatore poi che guarda il quadro dopo. La scelta di Giovanni Segantini di vivere poi in montagna come poi ha fatto il resto della sua esistenza e anche morto in montagna, è morto di peritonite perché nessuno riusciva, il medico non riusciva a raggiungere la località. Quindi una scelta così drastica era forse anche controcorrente rispetto alle scelte degli artisti secondo ottocentesca e anche della pittura di paesaggio perché noi sappiamo che molta pittura di paesaggio derivando dalla scuola di Barbison ha imitato questo andare verso la campagna, verso il bosco, verso paesaggi che potevano essere più o meno ameni, ma nessuno aveva scelto un paesaggio di montagna perché forse sulla montagna pesava questo concetto un po' della poetica del sublime come un paesaggio drammatico che può spaventare e terrorizzare l'uomo, questo in epoca romantica. Io credo invece che questa sintonia che Giovanni Segantini ha sentito immediatamente con la montagna e di conseguenza con i soggetti che lui ha scelto fanno parte di un'atmosfera culturale diversa che è quella della fine del secolo ed è, anche se può sembrare azzardato questo termine, una scelta consona a quell'idea di primitivismo che comunque circolava in Europa, cioè quel bisogno di ritornare a una natura primigenia, incontaminata, a un paesaggio non urbano, questa scelta di proprio abbandonare la città e tutto quello che è connesso con la città, era un sentimento che Giovanni Segantini condivideva con tanti altri artisti che hanno fatto delle scelte analoghe, forse più piacevoli e penso appunto a Van Gogh, siamo negli stessi anni che nell'87-88 va in Provenza perché ha bisogno del sole, del sole del sud, a Gauguin che va appunto nei mari del sud che ha un bisogno, come dire, di struggente, di ritorno a un momento incontaminato della vita dell'uomo e anche perché questo Giovanni Segantini appunto l'ha pagato con un'esistenza durissima che ha imposto anche alla sua famiglia, quindi la montagna per lui era tutto questo e la scelta di isolarsi è stata drastica, tanto che lui evitava spesso anche di frequentare gli altri artisti, erano gli altri artisti che andavano da lui. Questo senso di questa imponenza, di questa imponenza del paesaggio ci viene trasmesso dal dipinto attraverso tutta una serie di scelte compositive, prospettiche, strutturali che apparentemente, che non si vedono apparentemente, cioè apparentemente noi abbiamo un quadro di grande semplicità e non è così, cioè nel senso che invece questo dipinto segna un momento di trasformazione molto importante nella produzione artistica di Segantini. Perché fino a quel momento Giovanni Segantini aveva fin dall'inizio aveva scelto temi pastorali, temi idilli campestri, scene di contadine, contadini al lavoro, nei campi oppure nell'ovili, le greggi, il ritorno dai campi, una tematica molto diffusa in Europa a partire da Jean-François Millet e poi che era diventato un genere quasi a sé stante perché la visione dei contadini o dei pastori che accudiscono le greggi era comunque non rappresentato attraverso gli aspetti di crudezza del lavoro, non era il naturalismo che esaltava gli aspetti sociali del lavoro e quindi l'aspetto della durezza, insomma, del lavoro dei campi e Segantini vive in un periodo dove il positivismo è molto forte, le contraddizioni sociali molto forti, quanto piuttosto questo filone che deriva da Millet che è invece la visione evangelica del lavoro dei campi, cioè come qualcosa che comunque unisce l'uomo a Dio attraverso il lavoro dei campi, è un lavoro sacro e appunto pensiamo ai dipinti famosi come l'Angelus, come le Spigolatrici, queste visioni di contadini o di pastori in controluce sul tramonto hanno una valenza poetica ma soprattutto uno spirito cristiano che fu di grandissimo seguito in Europa Segantini conosce disegni e le opere di Millet molto bene perché Vittore Grubisi che è il suo mercante lo aggiorna continuamente su quello che gli manda, proprio fotografie, libri e quindi lo tiene costantemente informato e quindi da una parte la formazione di Segantini, questo per arrivare poi a dire perché cambia con la stanga è su questo solco millettiano del contadino in controluce in condizione di piacevole, amena consonanza con le greggi ed è una tematica che da Millet poi è per esempio affrontato anche Van Gogh in tutt'altra forma l'altra influenza molto forte ma non contrastante con quella francese di Millet è quella dei paesisti della scuola dell'Aia quindi il paesaggismo olandese Anton Mauve soprattutto i fratelli Maris che Grubisi frequenta, conosce molto bene il padre Mauve, padre tra virgolette così lo nomina Van Gogh e così lo nomina anche Segantini in una sua lettera quando sa che è morto, sempre però siamo in questo solco di un naturalismo che non è quello positivista, sociale, crudo eccetera ma è quello in cui vede comunque un'armonia del creato tra il 1800 poi 82, 85 comincia invece da parte di Giovanni Segantini una riflessione molto approfondita in cui cerca di staccarsi da questi modelli culturali che evidentemente non lo soddisfano, non gli sono sufficienti e in questo percorso ci sono tre opere, una di queste appunto è La Stanga, in cui lui sperimenta delle nuove soluzioni iconografiche e anche dei temi anche diversi uno di questi dipinti è Ave Maria Trasbordo che poi lui ha ridipinto successivamente in senso divisionista un altro dipinto che si chiama La Tossatura delle pecore e poi Alla Stanga queste tre opere che sono vicine negli anni, se uno le vede in successione capisce immediatamente la direzione che sta prendendo la pittura di Segantini, nel senso che Ave Maria Trasbordo è una scena appunto di una maternità di una madre con un bambino su una piccola imbarcazione che attraversano il lago e questa visione di amore materno circondata da tutta questa luce del cielo e dell'acqua è organizzata secondo una struttura concentrica, raggi concentrici che ha già qualcosa di simbolista proprio in questo modo di tratteggiare le onde del lago e la luce del cielo attraverso questi raggi concentrici si capisce che lui già sta sperimentando all'interno di una tematica tradizionalissima come quella della maternità un paesaggio già di tipo divisionista mentre nella Tossatura delle pecore che è anche questo preso un po' dalla scuola dell'Aia c'è invece di molto interessante un effetto di controluce estremamente spiccato per cui la scena che è presa dall'interno buio dell'ovile poi ha all'estremità proprio quasi del quadro una striscia di cielo luminosissimo che taglia proprio il quadro in senso orizzontale sono gli anni in cui Segantini quindi sta sperimentando da una parte un colore che poi diventerà divisionista quindi con un abbandono delle tinte scure, degli interni scuri delle scene di tramonto avvicinandosi quindi alla luminosità divisionista e dall'altra invece un tipo di composizione che cerca anche qui di sganciarsi dalla tradizione naturalistica per dare usando proprio gli elementi del disegno, della linea, della costruzione prospettica un senso completamente diverso al quadro e questo secondo me è il caso proprio di Alla Stanga perché, ripeto, la semplicità apparente del quadro questo senso di armonia che ci comunica è determinato da scelte compositive oltre che coloristiche precise per esempio lui adopera un formato molto grande per il dipinto come non se ne era mai usato per la pittura di paesaggio una struttura, è un dipinto di quasi 4 metri ma di formato orizzontale questa è la caratteristica cioè noi possiamo trovare nella pittura dell'Ottocento altri dipinti di paesaggio, quadroni, eccetera però spesso hanno il formato verticale questo formato orizzontale che veniva adoperato per le scene storiche per le scene narrative era stato usato di recente dal voto di Michetti e Segantini lo riprende per una scena di paesaggio che quindi viene dilatata su una dimensione assolutamente inusuale questo per dare la maggiore ampiezza possibile al dipinto in secondo luogo lui usa una prospettiva a volo d'uccello quindi dall'alto che è una prospettiva anche questa antica ma non più adoperata diciamo nell'Ottocento che è stata molto usata per esempio dalla scuola olandese dalla scuola di paesaggio olandese e anche, e questo è un po' anche la mia idea la mia interpretazione riportata in auge in Europa nella seconda metà dell'Ottocento dalla circolazione delle stampe ukiyo-e giapponesi sia per quanto riguarda la prospettiva dall'alto sia per quanto riguarda soprattutto e questo è il secondo elemento che voglio mettere in risalto il fatto che lui ha usato una struttura diagonale della composizione cioè, io ho sentito molto spesso parlare di orizzontalità del quadro attenzione, l'orizzontalità del formato la struttura compositiva no la struttura compositiva è ben impostata sulla diagonale che vuol dire? vuol dire che la prospettiva aerea quindi dall'alto presuppone un orizzonte alto e quindi una striscia di cielo che può essere estremamente circoscritta molto limitata come è il caso di questo dipinto e tutto, tre quarti del quadro sono occupati appunto dalla vallata quindi da questa prospettiva che viene vista dall'alto dove lui fa digradare il senso di profondità attraverso una lenta successione di piani quindi è molto pausata, molto dolce molto digradante verso l'orizzonte e su questa prospettiva aerea quindi con questi tre quarti occupati dalla pianura chiaramente gli alberi, gli animali, le figure si dispongono proprio all'interno quindi sono distribuiti, non sono i protagonisti sono degli elementi più o meno graduati con pause, dei ritmi precisi all'interno di questo paesaggio tutto il quadro è occupato dalla stanga che infatti dà il titolo al quadro cioè l'elemento è quello l'importante, insomma l'elemento compositivo è importante è quello perché è un elemento strutturale cioè la stanga attraverso il quadro è in diagonale il punto focale di questa prospettiva diagonale è posto quasi all'esterno del quadro quindi proprio al margine insomma io ho preso proprio le misure con il righello e ho visto che il punto focale cade quasi al bordo sinistro del dipinto poi è questo per suggerire una prospettiva che continua oltre il bordo del quadro e quindi all'infinito sia dal lato sinistro che dal lato destro perché idealmente la stanga continua poi ci sono altri piccoli elementi altre stanghe più piccole ma sempre o ribadiscono questa stessa prospettiva o la spezzano perché un altro elemento è quello che si ha spezzato questa composizione suggerisce l'idea di infinito e quindi è questo diciamo l'elemento che contribuisce con grande forza ma è una forza che non si vede a dare a questo dipinto di paesaggio un senso di respiro di infinito che va oltre cioè noi intuiamo che continua oltre il bordo del quadro e di conseguenza le figure animali e uomini sono uguali diciamo hanno la stessa rilevanza la stessa importanza al primo piano abbiamo le mucche non abbiamo la contadina di cui tra l'altro ci sfugge il viso per cui sono degli elementi che hanno una loro sintonia con questo paesaggio naturale una perfetta armonia che lega tutto e questo è secondo me il significato del quadro e quello che poi ci viene comunicato e comunica allo spettatore tuttora è un cambiamento in corso nel senso che lui come dicevo prima usava dei colori molto scuri perché derivava da questa tradizione insomma tardo naturalista millettiana il contro luce eccetera eccetera ma questo gli viene rimproverato da più parti nella critica quando lui fa le sue prime mostre eccetera dicono sì bello bello però l'effetto è troppo scuro hai l'impressione tutti questi quadri a un certo punto dice Carlo Dossi che appunto fa una recensione a una sua mostra dell'85 quindi poco precedente a questo dice la sensazione di vedere tutta questa sala con questi quadri con questi animali con questi ovili eccetera tutto molto bello molto interessante ma questo effetto scuro poi alla fine è un po' predominante poi lui usava il bitume all'epoca penso che le mie colleghe l'abbiano già forse detto poi questo bitume scuriva e quindi è oltre a una ricerca di tipo iconografico è anche una ricerca una sperimentazione attraverso il colore dove dobbiamo considerare che Vittore Grubisi dall'Olanda gli mandava appunto continuamente delle gli scriveva delle lettere gli mandava fotografie e lo spingeva intanto allo schiarimento del colore proprio quindi all'abbandono dei colori scuri e poi ma questo è successivo alla stampa alla stanga scusate proprio all'adozione della tecnica divisionista cioè quella in cui la pennellata il colore viene come dire diviso attraverso i segni che non sono in questo caso dei puntini sono delle pennellate di colore pure accostato tra di loro ma è il momento immediatamente successivo infatti è il momento della ripittura della ripittura della lave maria a trasbordo qui siamo nella fase intermedia in cui il colore viene dato ancora secondo questo di gradare delle tinte delle tonalità verde e brune che danno appunto questo senso della luce o dell'ombra e della profondità solo nella prima parte del quadro in basso dove c'è il quadro il prato si vedono anche da vicino oltre che in fotografia si vedono come queste pennellate già adottano questa tecnica di vista anche se non ancora in maniera scientifica pensata e calcolata ma molto materica cioè una pennellata già molto materica in cui i grovigli dei fili di paglia dell'erba eccetera e della terra visti molto da vicino danno già quest'idea che lui sta cercando la scomposizione della luce attraverso le tinte e soprattutto questa tecnica dell'accostamento del colore puro quindi non le velature eccetera eccetera è una fase quindi questo rappresentato dalla stanga che di transizione ma uso questo termine di transizione non come senso riduttivo o dispregiativo al contrario come momento esemplare e devo dire unico da questo punto di vista di unico anche per come livello qualitativo elevatissimo dell'opera poi vediamo che negli anni infatti successivi tra l'86 e il 90 sostanzialmente lui continua da una parte a sperimentare questi tagli compositivi tornando però non più alla struttura diagonale ma a una struttura orizzontale fatta di perpendicolari orizzontali e verticali quindi più classica se volete come appunto insomma il contrasto di luce per esempio e poi adotta questa tecnica divisionista in maniera più calibrata più calcolata e poi dal 90 in poi c'è la svolta pienamente simbolista ma tutto questo in nuce già adombrato in questo quadro un po' Grazie.